Musica Provincia di Salerno, nuovi collegamenti bus-treno per la costiera cilentana dal prossimo weekend. Già pronto il programma di Autolinea e Curcio. Internazionalizzazione delle imprese, il presidente del live Valentino Di Brizzi, ospite della Camera di Commercio Italia-Bielorussia per rapporti commerciali. Volla dal 19 luglio in vigore la legge 112 del 22 giugno 2016 su disposizione in materia di assistenza per le persone affette da disabilità. Il comune è pronto a partecipare al bando. BCC di Buonabitacolo, 35 anni di storia al servizio del territorio. Vallo della Lucania, domenica 24, settimo circuito di Cilento in Corsa. In notturna la quarta edizione di Vallo in Corsa. Buongiorno, ben trovati con l'appuntamento con l'informazione di Uno News. In apertura parliamo di collegamenti e trasporti. Tre nuovi collegamenti intermedi bus-treno saranno attivati dal prossimo 22 luglio fino al 31 agosto per collegare con le località turistiche della Costiera Cilentana e del Golfo di Policastro. Obiettivo è garantire un servizio di mobilità sufficiente con riferimento e picchi di domanda previsti per il periodo. L'iniziativa è della provincia di Salerno. Tre nuove linee di collegamento bus-treno che permetteranno di collegare con le località turistiche della Costiera Cilentana e del Golfo di Policastro. E' l'ultimo atto messo in campo dalla provincia di Salerno che sarà attivato dal 22 luglio al 31 agosto. Collegamenti intermodali bus-treno presso le stazioni ferroviarie di Valloscalo, Pisciotta e Sapri. Il servizio, fanno sapere da Palazzo Sant'Agostino, riguarderà le stazioni di collegamento con le principali località balneari del Cilento, attualmente servite in maniera insufficiente con riferimento ai picchi di domanda previsti per il periodo e sarà strutturato con servizi navette giornaliere organizzate durante l'arco della giornata in relazione agli arrivi e le partenze dei treni provenienti e diretti per le stazioni di Salerno e Napoli centrale. La linea 1 collegherà la stazione di Valloscalo con Pioppia, Ceroli e viceversa. La linea 2 è la stazione di Sapri-Scalo con Villa Mare, Capitello, Policastro e Scario e viceversa. La linea 3 è la stazione di Pisciotta-Scalo a Palinuro e Marina di Camerota e viceversa. Il trasporto è gratuito per i passeggeri in possesso di biglietto trenitaria che viaggiano sulla linea 1 e linea 2, mentre per coloro che dovranno utilizzare il collegamento intermodale attivo presso la stazione di Pisciotta è necessario munirsi di biglietto secondo la tariffa regionale vigente, ad eccezione dei passeggeri muniti di biglietto di treni intercity e Cilento Blu, per i quali viene previsto il trasporto gratuito. Il presidente della provincia, Giuseppe Canfora, e il vicepresidente delegato ai trasporti, Carmelo Estanziola, hanno espresso la loro piena soddisfazione per le attività messe in campo al servizio della comunità cilentana e dei visitatori, riconfermando il forte impegno della provincia nel settore della mobilità. E grazie all'iniziativa della provincia di Salerno arrivano importanti novità anche per il Vallo di Diano e per i collegamenti con il Golfo di Policastro. Sono infatti già stati previsti i potenziamenti nei collegamenti delle corse di Autolinea e Curcio con le principali località del Golfo di Policastro, quali Scario, Policastro, Capitello, Villa Mare e Sapri. In quest'ultimo caso in particolare sono previste due fermate, una in piazza San Giovanni nei pressi della stazione ferroviaria e l'altra al porto di Sapri. La scelta di queste due fermate è stata dettata dalla necessità di consentire ai passeggeri di Autolinea e Curcio di agevolare anche chi deve usufruire del servizio ferroviario oppure per coloro che intendono raggiungere località turistiche di Capri e Napoli utilizzando il nuovo servizio dell'Alicost. Del potenziamento del servizio di collegamento che partirà dal prossimo 22 luglio e si concluderà con Autolinea e Curcio il 4 settembre anziché il 31 agosto come previsto dalla provincia ne abbiamo parlato con il titolare di Autolinea e Curcio, Giuseppe Curcio, che chiarisce anche la posizione delle aziende impegnate nel trasporto su gomma in merito alla eventuale riattivazione della tratta ferrata Siciliano-Lago Negro. Ascoltiamolo. Un'iniziativa voluta dalla provincia di Salerno aveva riuscita a garantire degli impegni finanziari per la copertura di collegamenti di integrazione dalla costa per il ferro, quindi non soltanto nel corso ma anche nel ciletto, sono tre le reti di collegamenti che ha voluto e garantire praticamente il trasporto gratuito anche su gomma per chi è diretto alle sezioni ferroviarie che acconsegono chiaramente il biglietto ferroviario. Questa è un'iniziativa, come si legge anche poi dallo stesso comunicato stampa della provincia, rivolto anche a decongestionare quello che è il trasporto su gomma privato lungo l'assa di la Scenistana che vive purtroppo con del ciliano dei problemi di transitabilità. E quindi questo è diretto soprattutto a favorire l'uso e l'uso del reso confuso, quindi in questo caso il basso ferroviario. Non parliamo di nuovi collegamenti, parliamo di incrementi di collegamenti che ha esistito. Noi comunque nell'arco di Capia Scario, noi prima della famosa riduzione delle risorse del 2011 già c'erano numerosi collegamenti che non riuscivamo a garantire. Poi è venuto meno, insomma, le forze caratteristiche del trasporto, le abbiamo riduzioni a pochi aspetti a ridurli. Quindi noi al momento, in estate, avevamo cinque coppie di corse che vengono state raddoppiate con l'iniziativa promossa nel 22 luglio e inizieravamo da 7 di mattina fino alle 22, con frequenza, diciamo, la mattina ogni ora e mezza, il pomeriggio, ogni ora. e oltre alla ristorazione che avremo con il ferro, siamo riusciti anche ad integrare i collegamenti diretti al porto di Capri, per coloro che poi sono interessati a utilizzare il mezzo della ricosta che raggiunge Capri e Napoli. Quindi diamo anche un servizio, anche polizie, in questo caso. Mentre la provincia sia la caratteristica di corse fino alla fine di agosto, noi riusciremo comunque a garantire i servizi fino alla termine del passaggio. I servizi sono della collettività e rientrano nella programmazione degli enti, quindi la regione Campania in primis. Noi siamo soltanto dei medi esecutori di servizi, noi facciamo cercare le ruote della gomma nel nostro caso, come il ferro nel caso del ferroire dello Stato. Quindi nel momento in cui si riesce a riprogrammare seriamente tutto, chiaramente con il conconcimento essenziale anche del ferro, non vedo perché lo sessuale usiliano debba continuare perennemente ad avere questa moltificazione. quindi è importante però alla fine anche per evitare strumentazioni capire se il ferro sarà possibile averlo o meno, perché non è che è la gomma come spesso si può dire che non vuole il ferro, no, la gomma fa il suo lavoro. Ancora un rinvio dell'udienza preliminare sulla richiesta di rinvio a giudizio per sei persone accusate di truffa alle poste di Monte San Giacomo, tra gli indagati anche la responsabile Lucia Anna Darino, che insieme ad altre cinque persone avrebbe sottratto nel periodo che va dal 2005 al 2013 una somma complessiva di 1 milione e 123 mila euro. L'udienza è stata rinviata al 23 novembre. Parliamo ora di sanità dietro front sul decreto appropriatezza con la modifica degli articoli 16 e 21. I medici tornano liberi di prescrivere tutto quanto ritengono necessario alla tutela della salute. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presentato dei giorni scorsi al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin sui nuovi LEA è stata messa la parola fine sul decreto che tagliava il ticket per 203 prestazioni sanitarie e battezzato decreto appropriatezza. La normativa prevedeva sanzioni elevate nei confronti dei medici di base che avessero prescritto delle prestazioni sanitarie non strettamente necessarie. Il paziente che comunque avesse voluto procedere all'indagine non avrebbe potuto suffruire della ticket ma doveva pagarla al 100% di tasca propria. Ora il nuovo testo con la modifica degli articoli 16 e 21 richiama l'autonomia del medico e anche la sua responsabilità nel perseguire la proprietà. I medici quindi tornano liberi di prescrivere tutto quanto ritengono necessario alla tutela della salute sulla base delle evidenze scientifiche. Viene così ripristinata la piena autonomia del medico di famiglia nell'indicare sulla ricetta tutte le prestazioni sanitarie che secondo il proprio insindacabile parere risultano necessarie al caso di specie. Il comportamento prescrittorio potrà essere verificato nel tempo mentre la modalità di valutazione saranno definiti mediante accordi Stato-Regioni mentre infine saranno contratti e convenzioni a fissare le eventuali ricadute pratiche disciplinari sui medici. L'internazionalizzazione delle imprese resta uno dei principali fattori di investimento per puntare ad una crescita e ad uno sviluppo economico delle imprese del Vallo di Diano. Non è convinto il presidente del live Valentino Di Brizzi che ieri pomeriggio è stato ospite della Camera di Commercio Italia-Bielorussia e del suo presidente Angelo Ilardi per valutare eventuali opportunità di investimento nella Repubblica di Bielorussia. Si continua a puntare sull'internazionalizzazione delle imprese italiane ed in questa azione è sempre più impegnata anche l'Associazione Imprenditori Vallo di Diano che continua a tessere rapporti con enti istituzionali di paesi esteri e in diversi casi anche direttamente con associazioni di imprese all'estero. Ieri pomeriggio il presidente del live Valentino Di Brizzi è stato ospite della Camera di Commercio Italia-Bielorussia accolto dal presidente Angelo Ilardi per partecipare ad un incontro informativo sulle opportunità di investimento nella Repubblica bielorussa. Continua quindi l'impegno dell'Associazione Imprenditori Vallo di Diano e del suo presidente Di Brizzi per favorire le imprese del territorio all'apertura verso nuovi mercati e verso l'internazionalizzazione delle imprese locali. Un impegno che ha portato il presidente del live ad accogliere immediatamente l'invito del presidente della Camera di Commercio Italia-Bielorussia durante il quale oltre a discutere dell'opportunità e delle modalità di sviluppo dei rapporti commerciali tra le imprese salernitane e quella della Repubblica di Bielorussia ci si è anche intrattenuti in collegamento Skype con il ministro dell'Industria Tessile della Repubblica di Bielorussia e con numerosi imprenditori che operano nella Repubblica stessa. Al termine dell'incontro poi Valentino Di Brizzi e Angelo Ilardi hanno avuto modo di discutere sulle opportunità che la Repubblica di Bielorussia può offrire alle imprese del nostro territorio operanti anche in altri settori merciologici. Si è parlato in modo particolare dell'attività di impiantistica e di arredamento avviando così rapporti per valutare una più ampia e proficua collaborazione in virtù della prossima missione in Bielorussia che la Camera di Commercio organizzerà per il prossimo mese di ottobre. Il meeting di ieri sera, ha dichiarato Valentino Di Brizzi, ha posto le basi per una sicura e più ampia collaborazione tra l'Associazione Imprenditori Vallo di Diano e la Camera di Commercio Italia Bielorussia egregiamente presieduta dagli ingegneri Lardi. Da parte nostra, continua, siamo aperti a valutare e discutere ogni possibile opportunità di crescita delle imprese nostre associate oltre a nuovi sbocchi di mercato e per questo siamo molto attenti agli accordi che grazie alla mediazione posta in essere dalla Camera di Commercio Italia Bielorussia possono essere intraprese con il governo di questa Repubblica. è stata approvata in Parlamento lo scorso mese di giugno ed è in vigore da ieri la legge che prevede disposizioni in materia di assistenza alle persone diversamente abili. Una normativa che va in rispetto dei principi già emanati dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite. sono state demandate alle Regioni le azioni di attuazione con la messa a disposizione per il prossimo triennio di 184 milioni. È stata approvata lo scorso 22 giugno ed è in vigore da ieri, 19 luglio, la legge numero 112 su disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. La normativa arriva in attuazione dei principi della Costituzione italiana ma anche e soprattutto in risposta agli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e degli articoli 2 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone affette da disabilità. Una legge probabilmente particolarmente attesa anche dal Comune di Polla che ha provveduto immediatamente a darne notizie attraverso il sostituto istituzionale pubblicando il testo integrale della legge così come promulgata dal Presidente della Repubblica e approvata dal Parlamento. La legge parla anche di fondi messi a disposizione dallo Stato per la realizzazione di progetti, infrastrutture e a sostegno dei privati al fine di migliorare la qualità di vita delle persone diversamente abili e gli standard qualitativi di assistenza. La legge demanda alle Regioni nonché alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di assicurare adeguata assistenza sanitaria e sociale alle persone oggetto della normativa anche in collaborazione con gli enti comunali. Per raggiungere le finalità previste dalla legge 112 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito un fondo in dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2016, 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e ulteriori 56,1 milioni di euro per l'anno 2018 per un totale di poco più di 184 milioni di euro. Tale fondo potrà essere utilizzato per la realizzazione di strutture di accoglienza come riportato dalla stessa legge. Sarà ora impegno delle Regioni e quindi anche della Regione Campania dare seguito alla legge ed eventualmente, in collaborazione anche con i Comuni, pubblicare bandi per la realizzazione di progetti. Ed è proprio su questo punto che è focalizzata l'attenzione del Comune di Polla che sul suo sito istituzionale oltre ad annunciare l'entrata in vigore della legge in materia di assistenza in favore di persone affette da disabilità ha anche annunciato di avere già ideato un progetto per la realizzazione di una casa-albergo da destinare alle persone diversamente abili e che non riescono in casa ad avere adeguata assistenza. La casa-albergo si chiamerà dopo di noi e dovrebbe sorgere nel centro storico di Polla in via Fioritola, nei pressi del municipio, in una struttura già di proprietà comunale e nota come casa del bagno. Il Comune di Polla, annuncia il sindaco Rocco Giuliano, si attiverà non appena sarà pubblicato il bando della Regione Campania per richiedere i finanziamenti necessari alla realizzazione della casa-albergo dopo di noi destinata all'accoglienza dei disabili che restano privi del sostegno familiare. Utilizzando all'uopo il ristrutturando immobile relativo giardino, sito in via Fioritola, ex casa del bagno, oggi di proprietà comunale. Dopo tre anni, cambio alla guida del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, il generale di brigata Antonio Pellegrino Mazzarotti lascia al suo posto, subentra il generale di brigata Alessandro Marin. Nella giornata di ieri si è tenuta la cerimonia di avvicendamento preseduta dal comandante regionale Campania Generale di Divisione Fabrizio Carrarini a cui hanno partecipato ufficiali ispettori sovrintendenti appuntati e finanzieri del Comando Provinciale di Salerno. E andiamo avanti, dal 1981 ad oggi la BCC di Buonabitacolo ha percorso una lunga strada una sede principale, quattro agenzie e 700 soci occorre ricordare la propria storia per capire la strada che percorreranno verso il futuro. Vediamo Una storia lunga 35 anni che ancora diverse pagine da scrivere la BCC di Buonabitacolo, oggi guidata da Pasquale Gentile diretta da Angelo De Luca, guarda la propria storia per affrontare con fiducia e coraggio il futuro la sfida della riforma del credito cooperativo. La storia della BCC di Buonabitacolo ha come data principale il 12 gennaio del 1981 quando aprì al pubblico i suoi sportelli la Cassa Rurale Artigiana di Buonabitacolo. L'atto costitutivo fu firmato il 26 gennaio del 1980 da 349 soci fondatori. Il primo presidente del Consiglio di Amministrazione è stato il dottor Raffaele Rosciano mentre il primo presidente del Collegio Sindacale è stato l'avvocato De Martino Alfonso. Con il decreto legislativo 385 del 1993 entrato in vigore il 1 gennaio del 1994 le casse rurali e artigiane divanero banche di credito cooperativo. Le BCC pur adeguandosi al quadro della legislazione europea mantennero i loro caratteri di banche differenti la territorialità, la mutualità, la trasparenza e la moralità. Questa è la storia dunque della prima banca del Valo di Diano che oggi conta 700 soci, una sede principale, quattro agenzie, Assanza, Padula, Montesano Scalo e Lago Negro. È una competenza territoriale che da buon abitacolo si irradia per i comuni di Sanza, Casal Buono, Montesan Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Caselle in Pittari, Casaletto Spartano, Piaggin, Rofrano, Valle dell'Angelo, Sala Consilina, Marsico Nuovo, Sassano, Lago Negro, Moliterno e Tramutola. Tutto in attesa di sbarcare prossimamente nel Golfo di Policastro con l'apertura di una nuova agenzia Vibonati. Dal 1981 ad oggi la BCC di Buonabitacolo ha percorso una lunga strada e tanta ancora ne vuole percorrere sempre mantenendo i suoi caratteri, la territorialità, la mutualità, la trasparenza e la moralità. Il sabato prossimo alle ore 18 a Sassano è previsto il Consiglio Comunale presso la Villa Comunale Paolo Borsellino all'ordine del giorno il conferimento della benemerenza al dottor Franco Roberti, capo della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. E ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e riprenderemo tra pochissimo con il resto delle nostre notizie. Restate con noi. Bentornati alla seconda parte del nostro TG. Dopo essere stata tra le finaliste del concorso internazionale svoltosi a Cape Town in Sudafrica, un nuovo riconoscimento per la cantante lirica valdienese Valentina Mastrangelo, che interpreterà al Teatro Mancinelli di Orvieto il ruolo di Musetta nell'opera di Puccini, La Bohème, a partire dal prossimo 28 agosto. Continua senza sosta la scalata dell'artista valdianese Valentina Mastrangelo, che nel giro di poche settimane ha ottenuto due importanti riconoscimenti. Nelle scorse settimane è stata tra le 16 finaliste del Lance Gabor Belvedere Singing Competition che si è svolto a Cape Town in Sudafrica. Si tratta di uno dei concorsi più importanti a livello internazionale che ogni anno si sposta di città in città. Tra circa mille partecipanti alle selezioni che si sono svolte nei teatri di 64 città del mondo, Valentina è da prima entrata nei primi 120, poi ha superato le prove eliminatorie, fino a raggiungere la finale a 16 di Cape Town. Dalla esperienza sudafricana, Valentina è rientrata in Italia con un attestato di merito che ha tessuto le lodi della sua abilità. Con origini di Pertose Caggiano, ma adottata a Polla, Valentina Mastrangelo è una figlia del Valo di Diano che sull'esperienza di Cape Town ha dichiarato è stata un'esperienza indelebile sia per il concorso in sé che per la cornice splendida del luogo Cape Town. Ho avuto l'onore di cantare all'Artescape Theater diretta dalla maestro Kamal Khan con la sinfonica capetoniana. È stato davvero importante per me confrontarmi con colleghi dotati di grande qualità. Dopo la bella esperienza in Sudafrica, Valentina di Ritorno in Italia ha vinto il ruolo di musetta dell'opera di Puccino La Bohème al ventunesimo concorso internazionale per cantanti lirici Spazio Musica di Orvieto. Il concorso, che si è svolto proprio ad Orvieto dal 16 al 18 luglio, ha visto tre giorni di prove con 120 cantanti a condendersi il ruolo di musetta alla fine vinto dall'artista valdianese. unica italiana da aver vinto un premio. Ha scritto Valentina su Facebook. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura. Una nuova avventura che partirà il prossimo 28 agosto con il debutto presso il Teatro Mancinelli di Orvieto. Passiamo ora allo sport. Torna con la settima tappa il circuito podistico di Cilento di Corsa. Domenica 24 maggio suggestiva tappa in notturna nel centro storico di Vallo della Lucania con Vallo in Corsa. Torna sotto i riflettori il circuito podistico di Cilento in Corsa in una tappa speciale. La carovana infatti domenica prossima si sposterà a Vallo della Lucania per prepararsi insieme ai cittadini alla festa del Santo Patrono San Pantaleone. L'evento podistico, giunto alla quarta edizione, ha come particolarità la realizzazione notturna. Saranno infatti le luci artificiali che accompagneranno gli atleti nel percorso cittadino di 10 chilometri con partenza da Piazza Vittorio Emanuele alle ore 20 e 30. La settima tappa di Cilento di Corsa quindi è in programma domenica 24 luglio come detto nella suggestiva cornice del centro storico di Vallo della Lucania reso ancora più suggestivo dalla Corsa nella serata. Anche Vallo in Corsa quindi arricchisce il sempre più articolato circuito podistico che vede il Cilento protagonista dello sport manifestando una sempre più accesa passione proprio per l'atletica e per la Corsa Podistica in particolare. La competizione sportiva organizzata dall'associazione 3C Cilento Running Academy in collaborazione con l'associazione Vallo in Corsa conta sulla partecipazione di circa 200 atleti provenienti da tutta Italia. Il raduno degli atleti e l'iscrizione con la consegna della pettorina è prevista alle ore 18 in Piazza Vittorio Emanuele da dove partirà la gara alle 20 e 30 su un circuito che si snode in un percorso di 3 chilometri circa da ripetere tre volte. Quest'anno inoltre la Vallo in Corsa lancerà anche un importante messaggio sulla prevenzione del diabete. Agli atleti partecipanti grazie alla collaborazione dell'associazione diabetici del Cilento sarà data la possibilità di fare uno screening glicemico gratuito pre e post gara. L'iniziativa denominata di Corsa contro il diabete lo sport è un alleato naturale determinante alla cura e alla prevenzione del diabete si terrà sempre in Piazza Vittorio Emanuele a partire dalle ore 18 E sempre per lo sport occupiamoci delle Olimpiadi di Rio 2016 20 atleti campani saranno in gara le Olimpiadi di Rio de Janeiro che partiranno il 5 agosto due sole due sole le rappresentanze di Salerno 297 atleti 155 uomini 142 donne questa è la delegazione italiana che parteciperà dal 5 al 21 agosto prossimo alla 31esima edizione dei giochi olimpici che si terranno a Rio de Janeiro ieri ufficializzata la squadra olimpica che come confermato dal CONI sarà la più rosa di sempre con il 47,81% che supera così di gran lunga il 43,78% registrato a Londra 2012 nello scorre l'elenco dei partecipanti alla manifestazione 5 cerchi si nota come ben 20 atleti sono campani con Napoli e provincia rappresentata da 13 atleti mentre due sono della provincia di Benevento due della provincia di Caserta due della provincia di Salerno e uno di Avellino a rappresentare la provincia salernitana saranno Rossella Gregorio e Claudia Mandia Rossella Gregorio nata a Salerno nel 1990 gareggerà nella scherma in particolare nella sciabola dopo i tre bronzi europei due individuali e uno a squadre l'atleta può essere un outsider della specialità che sarà in pedano all'8 agosto nella prova individuale e il 13 in quella a squadre Claudia Mandia invece classe 1992 originaria di Battipaglia sarà impegnata nel tiro con l'arco dopo il bronzo individuale mondiale indoor di Ancara nel 2016 il bronzo a squadre nella tappa di Coppa del Mondo di Antilia nel 2016 e l'ora squadre dei giochi del Mediterraneo del 2013 sarà per lei la prima Olimpiade difficile che possa arrivare a medaglia vista l'arguerita concorrenza il 7 agosto in programma la gare a squadre mentre l'8 agosto in programma quella individuale l'obiettivo di tutta la delegazione azzurra sarà cercare di avvicinare l'exploit londinese dove la spedizione italiana conquistò ben 28 medaglie di cui 8 d'oro e con lo sport termina il nostro TG io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi ringrazio